E finisce così, alla partita, allo stadio, Marco Antonio Bente Codi, il Monza che batte 1-0 il Chievo, ragazzi, in trasferta, il Monza che vince e la decide, e la decide il Bomber, ragazzi, Super Mario Balotelli che torna titolare e la decide Super Mario Balotelli. Ciao ragazzi, bentornati in questo video qui a Giapiazz, oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, in un nuovo video, siamo appunto qui nel Giapiazz, commentate per commentare il post partita di Chievo Monza, post partita di Serie B, come sapete ragazzi, ovviamente, vi invito a lasciare un bel mi piace e un commento scrivendo qui sotto se avete visto la partita e siete contenti che il Monza ha vinto. Io sono tifoso della Roma ma simpatizzo molto il Monza, quest'anno mi sono veramente appassionato del Monza e lo seguo tutte le partite quando posso, ovviamente. E oggi, ragazzi, la decide il numero uno, il giocatore più forte, con più qualità del Monza, ovvero Super Mario Balotelli che dopo tanti infortuni torna a titolare perché dopo l'infortunio di Lecce è stato un mese fuori, poi è tornato nell'ultimo due partite già da due spezzoni, oggi è tornato dal primo minuto titolare e appunto la decide lui. Cioè, voglio dire una cosa, innanzitutto vi invito a iscrivervi al canale e attivate la campagna delle notifiche, mi raccomando se vi siete persi l'ultimo video vi lascio qui nelle schede a fine video, ieri ho fatto un post su Fiorentina Spezia e andatelo a vedere, c'è da mezzo pure il fantacalcio, vi dico solo questo, e vi ricordo che sotto in descrizione passate su tutti quanti i miei link, quindi seguitemi sui social, Instagram, piattaforma Viola, in cui appunto mi chiamo Giapio e se passate su tutti quanti i link, oppure avete aperto il canale delle donazioni, se qualcuno vuole supportare il canale anche economicamente, insomma è ben accetto, fate voi insomma, è libero, la donazione è libera, quindi vi invito solamente a iscrivervi e lasciare un mi piace, poi se volete supportare ulteriormente il canale per migliorare la qualità del canale potete anche trovare il link insomma delle donazioni, questo passiamo oltre, parlando della partita, il Chievo che appunto nel primo tempo fa una partita secondo me migliore rispetto al Monza che è un po' appannato al primo tempo, un po' sotto tono questo Monza al primo tempo, il Chievo che gioca meglio fa più tiri, diciamo è una partita molto noiosa, devo dire la verità, è stata una partita molto noiosa al primo tempo, poche azioni, quelle poche azioni che sono state create le ha create più che altro il Chievo, perché il Monza ha fatto 0 tiro nello specchio nel primo tempo, tra l'altro c'è stato un gol annullato al Chievo e un rigore secondo me che c'era per il Chievo, non è stato dato fallo di mano di Bellusci, se non mi sbaglio non mi ricordo se era Pirola o Bellusci fallo di mano, però non è stato dato il calcio di rigore e quindi comunque finisce 0-0, è una partita molto noiosa al primo tempo, il secondo tempo il Monza gioca meglio ovviamente, entra in campo con il più giusto e tra l'altro pochi minuti prima doveva uscire, c'era il cambio quindi, doveva uscire Ballotelli, però nello stesso momento in cui l'allenatore chiama il cambio c'è l'azione del Monza, cross di Donati in mezzo, bellissimo cross di Donati e Ballotelli di testa che insacca e segna il gol dell'1-0, proprio nel minuto in cui doveva essere sostituito, invece segna e appunto rimane in campo per altri minuti. La partita finisce così, tra l'altro nel finale il Monza si può portare tra l'altro anche sul 2-0, quindi può andare sul doppio vantaggio con Barillà, un bellissimo tiro di Barillà che a me piace troppo Barillà, però c'è il miracolo di Semper, portiere del Chievo che oggi ha fatto tante parate interessanti e si dimostra comunque che il Chievo è una squadra tosta, anche se non sbaglio è la miglior difesa della Serie B, il Chievo, quindi ottima vittoria per il Monza, tre punti per il Monza, il Monza che adesso è secondo in classifica e bisogna aspettare l'Empoli che deve ancora giocare, se non sbaglio ho già giocato, che è prima in classifica. Voglio sapere la vostra qui sotto, secondo voi il Monza può arrivare in Serie A e se viene in Serie A, secondo voi si può confermare anche per due anni? Fatemelo sapere qui sotto, un mi piace, un commento è una bella condizione, se no iscrivetevi e attivate la campanita, niente ragazzi, è qui tutto, e noi come al solito ci vediamo in un prossimo video, bella ragazzi, sempre e comunque forza il Monza e forza il calcio! Dai e vamos, ciao ragazzi! Grazie!